Presa da uno dei proprietari di casa mentre stava compiendo un furto nel suo appartamento con sulle spalle il figlio di 5 mesi, Manette, una croata di 21 anni già con precedenti, per analoghi, reati sempre compiuti a Firenze. Stava tentando di forzare la porta di un appartamento con il suo bambino di soli 5 mesi in un marsupio a tracolla. Lei è una 21enne croata, sorpresa all'opera insieme ad una complice da uno dei condomini. Gli agenti della squadra volanti della questura di Firenze sono tempestivamente intervenuti dopo l'allarme al 113 ed hanno bloccato la giovane. È stata immediatamente in prima battuta bloccata dal condomino poi l'intervento tempestivo delle volanti ha consentito ovviamente di prenderla in consegna e poi di trattarla e di trarla in arresto. La donna aveva un bambino di 5 mesi a tracolla in un marsupio e ha numerosi precedenti per furto ed era già colpita da un ordine di carcerazione sempre per furto in appartamento. Furti in appartamento in Toscana che sono aumentati nel 2009 del 10%. Già ieri era stato annunciato dal prefetto di Firenze l'installazione di 7 nuove telecamere in via Palazzuolo e San Bartolo a Cintoia nel capoluogo toscano, nel centro e nella periferia. Insomma sale l'attenzione delle forze dell'ordine. Stiamo puntando ad una mappatura di quelli che sono i fenomeni, ad un'analisi di quelli che sono anche i soggetti che vantano precedenti specifici per riuscire a dare una risposta importante al fenomeno. Grazie.